buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sì 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 hai ragione hai ragione me l'hai già detto ieri devo andare dal parrucchiere assolutamente devo andare a farmi vedere perché sto proprio male mamma mia di capelli sta barba la barba potrei farmela ma andrò da dal parrucchiere appena possibile di cosa parliamo oggi ti chiedo una cosa un bel mi piace come sempre un beso tu scrivi il canale a te non costa assolutamente niente a me fai un grandissimo favore ma grande ma tu non hai idea quanto grande mi fai questo favore parliamo di qualcosa che guarda al futuro parliamo di qualcosa che guarda al futuro sì oggi voglio dare sei punti sei sei previsioni sei forse sei o forse anche di più sei previsioni sulla fotografia sul futuro della fotografia allora le mie sei previsioni sul futuro della fotografia forse sei vediamo io ho messo giù sei punti ma magari ne vengono fuori di più allora primo punto finisce a dire allora perché mi fai girare le scatole luca dal futuro il primo punto lo chiamiamo fotografia immersiva cosa voglio dire con fotografia immersiva la pandemia ha creato un bisogno molto più tangibile di quello che c'era prima o meglio ha accelerato le esigenze che ci sarebbero state nei prossimi cinque anni le anticipate notevolmente e la cosa che sicuramente ci sarà bisogno è di avere una fotografia che abbia la capacità di riuscire a portare dentro totalmente le persone nel momento in cui devono andare a comprare un oggetto devono andare a comprare un qualcosa fino a prima della pandemia la fotografia raccontava faceva vedere parliamo di case ad esempio faceva vedere le stanze della casa faceva vedere come era suddivisa la casa e attirava la persona per poter poi andare all'interno dell'annuncio e chiamare l'agenzia immobiliare e andare a visitare la casa oggi un po per obbligo un po per delle nuove abitudini che nasceranno la fotografia sta cambiando la fotografia commerciale in modo particolare sia per le case gli alberghi ma anche per chi vende prodotti alimentari food commerciale inteso come still life quindi proprio prodotto fisico cellulari e quant'altro non è la stessa cosa del video so già che stai pensando c'è già il video no il video racconta e lo dico spesso il video racconta totalmente quello che voglio e vuole far vedere l'autore racconta una trama racconta un punto inizio un punto di fine la fotografia racconta un punto una visione poi lascia l'immaginazione delle persone a andare avanti a concludere quella storia il video tendenzialmente ha un inizio e una fine si può essere lasciato in sospeso ma è più più lungo ha un rapporto diverso rispetto alla fotografia di prodotto c'è una terza scelta che è appunto la fotografia immersiva la chiamo così ma ce la sarà sempre più bisogno si può chiamare fotografia a 360 gradi fotografia 3d quindi il fatto che i prodotti si possano vedere sotto tutti i punti di vista sfondo bianco prodotto che gira e già tanti lo fanno ma ce ne sarà ancora più bisogno come ce ne sarà sempre più bisogno della fotografia a 360 gradi per vedere le case secondo secondo punto i cellulari gli smartphone gli ipad i tablet il computer hanno una cosa che ci mettono sempre a contatto con qualsiasi cosa la macchina fotografica questa cosa non ce l'ha non siamo connessi sempre nel momento in cui scattiamo io vado oltre alla connessione in internet io proprio parlo di connessione con un con un hard disk esterno ad esempio il fotografo sportivo questa cosa fotografo sportivo di un certo livello questa cosa la sa nel senso che scatta le foto le trasmette automaticamente al computer e vengono mandate automaticamente all'agenzia stampa al giornale a chi ha bisogno della della fotografia ecco questa cosa della possibilità di connettersi sempre quindi di replicare un po quello che fa il cellulare cioè tu scatti il cellulare cosa fa scatta una foto la tiene memoria ma la manda subito al cloud il cloud può essere condiviso qualcuno può scaricare ecco alla macchina fotografica questa cosa manca anche qui c'è stata un'accelerazione un bisogno che verrà fuori sempre di più terzo punto una grande cosa mi piace mi piace tantissimo come c'è il ritorno al vinile quindi il ritorno passatemi il termine all'antico o antico mica tanto io ci avevo vent'anni 18 anni quando il vinile andava spaccava veramente a monza mi ricordo il negozio di vinile che quando pigiavo magari passavo di lì a guardare a guardare qualche vinile e quindi il ritorno all'antico sia appunto come vinile mai nella nella fotografia ritorna all'analogico sta tornando sempre di più in auge e la fotografia analogica perché lascia spazio alla creatività perché fa saporare a chi non ha mai provato a scattare in analogico che cosa voleva dire a un sapore diverso a un sapore diverso a un'attesa diversa a una costruzione della foto totalmente diversa perché perché quando scatti in analogico il tuo flusso di lavoro nella tua testa si blocca alla fase di click perché poi dai da sviluppare il rullino a qualcun altro magari c'è qualcuno che l'ha fatto in casa ma quelli bravi bravi che cancellavano le persone anche nell'analogico e quant'altro era sempre qualcuno era un grande artista oggi invece il digitale fa scattare e le persone poi scattano e pubblicano la foto senza neanche passare da una post produzione propria lasciano che questa cosa la faccia la macchina fotografica con il software interno mettendo dei valori di preset che ci sono sulle macchine fotografie ecco l'analogico ritorno dall'analogico io la vedo una grandissima cosa un gran bel sapore un riscoprire una fotografia diversa non migliore non migliore non peggiore una fotografia diversa con un sapore diverso io sono per c'è spazio per tutto c'è spazio per tutti non non si può pensare che ci sia una fotografia migliore di un'altra gli smartphone ammazzeranno lo stanno già facendo ma ancora di più con la tecnologia che c'è in ballo ammazzeranno tutto il comparto di compatte fotografiche se tu se tu prendi un p40 un huawei p40 perché sono ben dite che parlo sempre di iphone e quindi prendo un altro un altro modello un huawei p40 ma puoi andare a prendere qualsiasi modello di top gamma che punta sul comparto fotografico hai tutto dentro hai dal tele obiettivo spinto al grandangolo hai tante cose che ti permettono di sfruttare al meglio la fotografia e perché qualcuno dovrebbe portarsi dietro una compatta quando il cellulare fa già tutto quello che deve fare e in più hai già a portata di mano e di condivisione tornando al punto precedente di condivisione ecco se le macchine fotografiche vogliono continuare a sopravvivere sotto questo punto di vista devono ripensare un po anche al pubblico al quale si rivolgono perché perché la figlia che ha dieci anni il cellulare sarà la sua macchina fotografica per i prossimi anni quando avrà il cellulare cioè dalla terza media in poi però sarà la sua macchina fotografica poi io spero che lei prenda in mano anche un'altra macchina fotografica e assapori la fotografia ma lascerò libera scelta lei però i giovani d'oggi nel cellulare trovano una videocamera trovano un cellulare per comunque connettersi con le altre persone e trovano anche una macchina fotografica quindi spazieranno via tutte queste macchine che sono perdonatemi le trovo inutili salvo qualche eccezione ma le trovo inutili quinto punto quarto punto quinto punto mi sono perso allora il primo punto era la fotografia immersiva il secondo punto la la connettività il terzo punto il ritorno all'analogico il quarto punto gli smartphone che uccideranno la gran fetta delle macchine fotografiche il quinto punto è una previsione io credo che le dlsr quindi le reflex come le conosciamo noi moriranno moriranno perché la mirrorless le mirrorless hanno sono meglio sono meglio sotto miliardi di punti di vista e sempre di più i produttori ci stanno ci stanno puntando sempre più professionisti stanno prendendo le mirrorless io parlo di mirrorless da tanti anni considerate che ho avevo una olympus m1 come corpo principale per lavorare perché credevo e credo ancora tuttora che le mirrorless siano sotto sotto tanti punti di vista migliori poi sono tornato a canon perché ritengo canon nel comparto ottiche e quindi nel comparto ottiche macchina fotografica per le mie esigenze la miglior macchina fotografica per me perché dico per me perché io non sono un combattente per il marchio ognuno scelga il marchio che più lo aggrada ormai sono tutti a grandissimi livelli però le mirrorless sicuramente hanno dei grandi vantaggi hanno la possibilità di non staccare mai la macchina fotografica quando si scatta perché puoi vedere quello che è scattato direttamente nel mirino perché può simulare l'esposizione e per tanti altri vantaggi il fatto di avere il sensore stabilizzato considerate che io ho scattato con l'olympus m1 mark 2 e il 300 mm f4 una foto uno scogliattolo a un quindicesimo un quindicesimo e ci sono persone che hanno scattato foto con lenti e quindi col doppio stabilizzatore macchina fotografica e lente anche a un secondo perfettamente immobili cioè i due sensori i due stabilizzatori macchina fotografica e obiettivo lavorano tra di loro e annullano il tremolio quindi questo è un altro grande vantaggio secondo me nel giro di dieci anni forse meno le reflex come le conosciamo noi moriranno o sarà una piccolissima nicchia di persone che utilizzerà nostalgici per diversi motivi dico anche questo perché ultimamente vedo che le persone non mi chiedono più quale reflex mi consigli di comprare mi chiedono quale mirrorless mi consigli di comprare e quindi questo è un segnale che anche all'orecchio dei non addetti ai lavori la mirrorless è un vantaggio l'ultimo punto è quello che veramente secondo me stravolgerà completamente il mercato della fotografia e preparatevi cioè non c'è non ci si può far niente preparatevi adeguatevi fate quello che volete ma siate pronti il punto è che l'intelligenza artificiale cambierà tutto cambierà tutto nel mondo della fotografia io ne ho parlato ho iniziato a parlarne con quando ho parlato di apple pro raw vi lascio qui il video ma anche utilizzando software come clip drop che è un sistema che ti permette di scattare delle foto o di selezionare una foto tramite lo schermo e lui automaticamente ti scontorna il soggetto oppure i filtri neurali in photoshop che servono per fare determinate cose considerate che i filtri neurali sono lavorano in cloud questo perché perché quando tu li usi adobe impara e l'intelligenza artificiale migliora tantissime altre 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 cose migliorano grazie all'utilizzo alexa migliora grazie all'utilizzo siri migliora grazie all'utilizzo cortana eccetera tutti ecco è ascoltato tutti i sistemi di intelligenza artificiale imparano e quindi anche nella fotografia impareranno impareranno a ottenere un ottimo risultato di post produzione veloce che per la massa è ottimo io scatto non voglio a me non me ne frega niente utente medio non me ne frega niente di star lì con photoshop lightroom capture one e pinco pallo e quant'altro mettermi lì a ritoccare la foto io voglio un un cotto e mangiato ma anche il nuovo luminar ai credo che non ci sia niente di male il mondo va avanti ma questo non vuol dire che scomparirà la fotografia come la conosciamo noi e poi considerate che la fotografia non è lo strumento ne ho parlato qualche giorno fa ti lascio anche qui il video la fotografia la gente continua a pensare che è lo strumento ma la fotografia è molto di più è qua è qua la fotografia è vabbè non vado avanti ne ho parlato ne ho parlato tantissimo quindi per me l'intelligenza artificiale nella fotografia cambierà radicalmente il mondo della fotografia almeno una grossa fetta magari non quella dei professionisti ma aiuterà anche a quella dei professionisti l'importante essere pronti e non fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia io ho tanti colleghi che si spaventano del fatto che ci sono persone che utilizzano il cellulare per fare fotografie anche per vendere prodotti ma perché se tu hai un negozio che vende abiti da sposa che se tu hai un negozio che vende pietre che vende un bar o quant'altro come puoi continuare a chiamare un fotografo tutti i giorni è un costo un costo un costo elevato me ne rendo conto e quindi se impari a fare le foto io ho dei clienti al quali ho trasmesso questa cosa hanno imparato e le loro foto sono migliorate ma loro se le fanno tutti i giorni in casa hanno preparato il loro set dedicano del tempo a fare delle foto con cosa con il cellulare perché perché il cellulare è clic e posta clic e posta clic non hanno tempo di fare clic spostalo sul computer sistema un attimino la fotografia e mandalo su internet non ce l'hanno il tempo non ce lo vogliono avere loro devono vendere devono campare devono vendere i prodotti e utilizzano il sistema del cellulare e anche oggi abbiamo finito ti ringrazio grazie grazie ti chiedo una cosa un bel mi piace come sempre un bel sottoscrivi il canale a te non costa assolutamente niente a me fai un grandissimo favore ma grande ma tu non hai idea quanto grande mi fai questo favore sottoscrivi il canale mi piace la campagna puoi anche non attivarla sottoscrivi il canale mi piace ti ringrazio e alla prossima ciao 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 ciao